amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati appuntamento della lunedì come di consueto partiamo con l'analisi sulle principali notizie fatti di politica internazionale elezioni usa ultimi comizi per donald trump e kamala harris come si posizionando vedremo come si stanno posizionando anche i media cosa stanno dicendo e cosa non stanno dicendo su queste elezioni e poi l'iran quando attaccherà l'iran israele già stanotte durante o dopo le elezioni perché si aspettano novi novità e notizie a breve al massimo medio termine e poi il conflitto ucraino e zelensky che sono quasi spariti dai media e capiremo perché infatti e infatti faremo un aggiornamento sulle operazioni militari ma non solo che come potrete chiaramente capire non stanno andando per nulla bene per il fronte occidentale e dopo anche il vaticano israele sono implicati nello scandalo dello spionaggio in italia l'intrigo internazionale di files rubati è gigantesco i personaggi dello spettacolo su cui si stanno concentrando i media eh sono un diversivo è un aspetto sono un aspetto assolutamente eh secondario anche questo un un affare uno scandalo che è destinato a ingigantirsi e cercheremo di capire la portata e le implicazioni eh che avrà questo eh scandalo di spionaggio eh conosciuto come eh spionaggio Equalize do subito il benvenuto ai miei ospiti del lunedì benvenuto a Stefano Orsi ciao Stefano buongiorno Carlo buongiorno a tutti ricordo collaboratore della rivista il sudeste del blog Sacher Italia e lettera da Mosca autore dell'omonimo canale YouTube che la settimana scorsa ha superato il 50.000 ha superato i 50.000 esattamente bene complimenti eh grazie grazie 50.000 è un un traguardo ma anche molto simbolico il 50 ed è a 30.000 il canale il contesto di Giacomo Gabellini superati credo no? Sì 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 proprio nonostante le eh insomma gli sgambetti eh sì eh sei proprio diplomatico sei proprio buono a chiamarli sgambetti eh troppo buono a chiamarli sgambetti eh caro Giacomo ricordo analista di politica internazionale ed economia scrittore autore del canale YouTube appunto il eh contesto e do una notizia in anteprima perché Giacomo Gabellini sarà con noi mercoledì sera assieme a Umberto Pascali e al nostro direttore Gabriele Sannino per la diretta speciale elezioni americane duemilaventiquattro a partire dalle diciannove e trenta quindi avete già capito una eh il trio e quindi non mancate e partiamo qui invece con il grande due del lunedì allora eh Giacomo abbiamo abbiamo iniziamo con le elezioni americane ultimi comizi per Donald Trump e Kamala Harris eh cosa stai notando di questi ultimi giorni cosa su cosa porresti la tua attenzione? Sto notando che già si stanno ponendo le basi per eh un parapiglia di dimensioni colossali perché con il voto postale e il voto elettronico che hanno fatto già votare si parla di sessanta settanta milioni di americani e le modalità stesse che caratterizzano il funzionamento di questi di questo voto rendono eh il voto eh tornata elettorale assai poco trasparente per usare un grossissimo eufemismo insomma e quindi questo comporterà automaticamente uno scenario per cui chiunque dei due perda le elezioni griderà ai brogli già lo stanno facendo adesso prima che che ci si prima del 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 fatidico martedì sì e quindi possiamo immaginare solo cosa accadrà dopo insomma in un paese che è arrivato alle elezioni con una situazione di tensione interna mai così alta da diversi decenni a questa parte credo che ci siano gli ingredienti per un potenziale esito lo dico problematico mettiamola così problematico ti faremo dire qualche altra parola hai già hai già introdotto un concetto chiaro e definito io allora farai subito il primo giro anche con Stefano cosa 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 noti in particolare di queste elezioni in questi ultimi giorni questa dei drogi intanto sei d'accordo con intanto ti chiedo con questo questo fattore che ha che ha evidenziato Giacomo io avevo analizzato a suo tempo quattro anni fa il sistema di voto per posta e l'avevo trovato letteralmente assurdo dal basso della mia esperienza come presidente di seggio 35 anni di onorata carriera pardon 37 anni di onorata carriera e avevo appena compiuto 18 anni che ho fatto subito dovevo fare lo scontatore di riserva fatto un calcolo ho fatto un calcolo mentale al volo detto iniziato da proprio da appena maggiorenne 18 anni prima volta che votavo ero andato a chiedere se c'era posto per farlo scontatore mi fanno guarda il signore che è uscito era un presidente di seggio ha rinunciato se vuol farlo lei faccio mai la prima volta che voto non gliene frega niente a nessuno è un referendum era un referendum sul nucleare quindi e quindi i tuoi 37 anni di esperienza cosa ti dicono che il sistema di voto per corrispondenza anziché far andare ai seggi gli elettori per essere sicuri dell'identità di chi vota è un sistema assolutamente insicuro antidemocratico troppo aperto a brogli perché chiunque può prendere la propria scheda venderla a qualcuno in cambio di soldi e nessuno può controllare chi la compila e chi vota nessuno poi viene chiusa imbustata imbucata e viene aperta e contata come se fosse stato tutto regolare e non c'è modo di sapere se non è così scusami stefano mi viene da dire se avvenisse nel paese più corrotto del mondo diresti beh è ovvio è il paese più corrotto del mondo scusami l'ho detta l'ho detta l'ho detta proprio cattiva ma insomma ci sta no è un sistema demenziale retaggio di un periodo in cui per recarsi magari a un seggio a votare bisognava fare 100 chilometri a cavallo o a piedi o col calesse e quindi si spediva la lettera con il proprio voto confidando nella buona fede non siamo più in quei tempi ecco quindi chi vuol votare vada al seggio a votare se non ci sono abbastanza seggi si dica alle amministrazioni alle amministrazioni locali di aprirne di più molto semplicemente ma non si può ammettere che un paese nel ventunesimo secolo non controlli nemmeno l'identità di chi vota perché questo avviene con il voto per posta addirittura se qualcuno ha cambiato di recente residenza magari la scheda da votare è arrivata al vecchio indirizzo a qualcun altro come capita molte volte il problema è che questo sistema non è molto diverso da quello usato per far votare gli italiani all'estero ecco tanto per dire questo detto sul sistema sul pericolo dei brogli ecco parlando invece di cosa si sente si percepisce nell'aere posso dire che le forzature di alcuni quotidiani di tiratura nazionale negli stati uniti che hanno fatto esplicito invito a votare kamala harris suonano come una tromba d'allarme non un segnale d'allarme vuol dire che qualcosa non va se devono esporsi così tanto tutta la pletora di attori o attricette che si presentano dicendo di votare per la harris pur di perché ogni voto per chiunque altro ad esempio c'è una candidata che si candida tutti gli anni non mi ricordo come si chiama stein stein esatto sarebbe un voto per trump e questo non è possibile perché lui rappresenta l'odio e la divisione ma questa non è un'espressione di odio e divisione no votare chiunque pur di non votare trump questa è una chiara espressione di odio e di divisione del paese poi voglio vedere magari l'ultimo degli ignoranti ha passato più ore a scuola magari di questi attori che sono solo famosi e basta c'è dire attori cantanti per carità ci sono da una parte dall'altra trump annovera un premio nobel come al kogan tra i suoi sostenitori no e quindi voglio dire stiamo stiamo parlando proprio dei massimi sistemi no ecco siamo a un livello altissimo questo è per dire a che livello sono negli stati uniti dal punto di vista invece elettorale ci sono vari tentativi di influenzare gli elettori parlando di sondaggi su alcuni stati in particolar modo viene citato un sondaggio nel main che ne so per non dire un altro dà in vantaggio kamala harris e allora esaminiamo che cosa viene detto un sondaggio dà in vantaggio kamala harris normalmente sono dieci o dodici i sondaggi i sondaggisti che stato per stato fanno i sondaggi per i risultati elettorali se uno solo dà in vantaggio kamala harris gli altri o li danno alla pari o la danno a trump e questa è la verità io infatti seguo sempre alcuni siti che fanno la media tra sette otto o dieci sondaggi e normalmente vedo che non ci sono stati grandi spostamenti di voti se non 0 1 0 2 e quali sono gli stati più incerti per esempio di sicuro non il texas che solo a io il michigan il michigan michigan vediamo un po se non gli altri giacomo secondo te come quali altri secondo te il solito la zona della cintura della ruggine sempre l'ohaio l'ohaio è nella cintura della ruggine tutti al 51 e 6 danno vincente ad esempio cinque sondaggi in media danno al 3 novembre danno vincente trump poi vediamo altri stati incerti cos'era il main no era sicuramente a favore di mentre controlli stefano vediamo un attimo giacomo secondo me sui brogli avevi ancora qualcosa da dire vedendo ormai conoscendo la prova la 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 fisiognomica diciamo ecco michigan michigan danno davanti la herris di un punto e mezzo si 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 florida ad esempio davanti trump invece si florida nel stato tipicamente repubblicano il punto è che negli anni scorsi è stato spesso incerto è punto è che per esempio rasmussen dava che per esempio denunciava mi pare ieri altro ieri una cosa del genere che c'è il fenomeno dei voti multipli cioè una stessa uno stesso identificativo del voto elettronico ha votato 29 volte per esempio in un giorno poi se si considera per esempio che le liste elettorali vengono aggiornate ogni cinque sei sette dieci anni risulta che hanno diritto al voto anche i morti e beh certo e alle volte votano anche esatto e vengono pure eletti anche vedi l'esempio di quattro anni fa miracoli della transustanziazione no come si direbbe no e poi ci sono per esempio un altro fenomeno che per me è allucinante che è strettamente corregolato a questo c'è che la diciamo la spiccatissima propensione dell'amministrazione democratica che attualmente uscente a concedere la cittadinanza al volo a tutti gli immigrati che si accatastavano in appositi teatri che raccoglievano mille persone ricevevano tutti la cittadinanza cioè si tratta di importare voti così eh sì eh sì certo certo quelli sono voti per i democratici ovviamente esattamente esattamente però questo dà anche la misura di quanto ci è un po' una vendita no io ti ti pago con la cittadinanza se tu mi voti esattamente quello che viene denunciato ad esempio per le elezioni in moldavia quindi gli stati uniti sono piazzati come loro da questo punto di vista è simile certo prego giacomo dicendo che questa proprio si parlava di comprare voti queste elezioni sono costate 34 miliardi di dollari 34 miliardi di dollari quelle del 2012 5 miliardi cosa è dovuto questo giacomo perché la questa è un dato credo inedito e clamoroso nella sua forbice per diciamo questo da proprio anche in questo caso ci offre uno spaccato piuttosto interessante su cosa sia diventata la politica c'è una spettacolarizzazione totale che richiede per l'appunto quattrini e dimostra una cosa che il denaro che compra compra le elezioni e quando vengono elargiti così tanti finanziamenti significa che questi finanziamenti si trasformano inesorabilmente in provvedimenti misure regolamenti favorevoli ai finanziatori perché i finanziatori non è che danno soldi gratuitamente che si possa chiamare un sistema di questo genere democrazia per me è qualcosa di veramente tragicomico giacomo restiamo un attimo con te dopo ovviamente passiamo subito a stefano si parlava dei media no un attimo sì l'arrizona l'arrizona ad esempio che è uno degli stati più in bilico anche alle scorse elezioni c'è stato il conteggio più volte dei voti 15 sondaggi in media no danno vincente trump a 48 3 su 46 e 7 notizia molto interessante questa aspetta come anche la georgia la georgia che è un altro degli stati in bilico che al telegiornale dicono sono alla pari qui abbiamo una media di 12 sondaggi al 3 di novembre e 47 3 harris 48 5 trump quindi davanti trump di un punto e due l'informazione libera e indipendente non è mai stata così importante al vaso di pandora ci impegniamo ogni giorno per fornirti analisi approfondite rubriche esclusive e interviste senza filtri lontane da ogni forma di propaganda sostenere un'informazione di qualità è fondamentale per mantenere viva una voce indipendente con il tuo abbonamento ci aiuti a continuare questa missione e a migliorare il servizio che ti offriamo abbonati oggi su ivdp.it e unisciti alla nostra famiglia di ascoltatori consaprivoli insieme possiamo promuovere un'informazione di qualità Giacomo dicevamo dicevamo appunto stavate notando i giornali che si schierano apertamente verso la Harris però si nota anche il Washington Post del proprietario anche del fondatore di Amazon Jeff Bezos che si è alzato come le mani prego diciamo che si sta riposizionando è una scia che aveva secondo me Zuckerberg tempo fa per esempio aveva ammesso pubblicamente aveva chiesto scusa perché durante la pandemia lui sostanzialmente Facebook applicava le direttive del dipartimento di stato dell'amministrazione Biden lui se ne è scusato però significa che chiaramente quando un personaggio di quella caratura assume una posizione pubblica di quel genere sta chiaramente mandando dei segnali sta cercando di predisporsi nella maniera miglior possibile in vista delle elezioni che a suo dire a suo avviso probabilmente prenderanno a favore di un candidato specifico che non è probabilmente Kamala Harris e secondo me la stessa logica è da applicarsi nei confronti di questa decisione di Jeff Bezos prima di assumere, l'ha rivelato il New York Times questo, di spingere affinché il Washington Post di cui lui è editore assuma un numero maggiore di commentatori conservatori questo è un dato abbastanza interessante e poi successivamente ha praticamente preso, ha rifiutato di far comparire sul Washington Post contenuti che siano favorevoli a Kamala Harris e questo è costato 200.000 iscrizioni al Washington Post insomma evidentemente Bezos sta fiutando l'aria che tira e ritiene molto più verosimile che si assista a una vittoria di Trump rispetto alla Harris Stefano, come ti sembra, come sarà l'esito al netto dei brogli che hai voglia di dire al netto dei brogli? Stefano, come dovrebbe andare secondo te per l'idea che ti sei fatto analizzando da qui i sondaggi, i flussi eccetera? So che ci stai dedicando molta molta attenzione in queste elezioni sui sondaggi Allora, per me come tendenza alla fine delle fini sul totale nazionale potrebbe avere più voti Kamala Harris ma come conteggio di stati potrebbe prevalere quindi con i voti dei grandi elettori che poi andranno a eleggere il presidente potrebbe prevalere Trump proprio grazie ad alcuni stati incerti come ad esempio il Michigan che viene dato, sono molto vicini però potrebbe, danno come vincente la Harris ma potrebbe prevalere Trump in quel caso, non tanto perché, non tanto per l'orientamento generale degli elettori ma per il fatto che alla fine delle fini sono quegli stati che fanno parte delle zone in cui ci sono molti impoveriti che sono quella fascia di elettori anche spesso bianchi che fanno parte del retaggio familiare dello stesso Vance che è il vice di Trump e che raramente vengono contatti o contattati magari nei sondaggi ma che poi magari possono fare la differenza Vance credo che venga dal West Virginia se ben mi ricordo a cavallo degli appalachi Jackson Ohio anche che è ok chissà perché pensano fosse del West Virginia e comunque li danno i Trumpiani oltre il 61% di voti quindi sono quegli stati dove c'è una profonda povertà un impoverimento progressivo con la chiusura tra l'altro di miniere, di industrie se hanno chiuso le industrie ad esempio nella cintura della ruggine in queste zone hanno chiuso le miniere di carbone sotto le amministrazioni democratiche e da allora sono passati mani e piedi verso i repubblicani e in particolar modo verso Trump una frase che circola in questi giorni nei media parola d'ordine Giacomo rifolta alle donne tradite i vostri mariti al voto perché evidentemente c'è una netta maggioranza nell'ambito degli uomini che voterà evidentemente Trump e quindi hanno detto questa cosa ecco al netto come la rivolgo anche a te la domanda che ho appena fatto a Stefano al netto dei brogli e qui al netto quindi di tutto praticamente si può dire come potrebbero andare queste elezioni so che è una domanda un po' ingrata perché chiedere previsioni è sempre ingrato molto molto difficile perché si fa veramente fatica a capire a distinguere il vero dal falso è sempre così ma quando ci sono come dicevo cifre di questo genere quando l'impegno, la divisione è così forte e la politicizzazione riguarda ormai ogni ambito leggevo non so in quale contea erano stati assunti non so su 700-800 verificatori mi sembra che il 95% fossero dichiaratamente democratici e quindi c'è anche un'estremizzazione una polarizzazione estrema proprio cavalcata dai media e dei politici quando per esempio si dice quello che dicevi tu alle donne votate contro i mariti si torna quindi ecco i neri contro i bianchi le donne contro gli uomini tutte queste divisioni forniscono un'immagine diciamo di divaricazione spaventosa del paese e quindi in questo contesto è molto difficile prevedere cosa potrà succedere per esempio noi abbiamo visto nel 2020 che sono state secondo me largamente caratterizzate da diciamo irregolarità chiamiamoli irregolarità dai come vuoi chiamarle Giacomo brogli brogli perché insomma quando arrivano quando ci sono i voti postali di quel genere che ribaltano completamente l'esito una tendenza che sembrava di un certo tipo insomma di dubbi ne viene più di uno poi come già detto il sistema per come è stato strutturato dal mio punto di vista è fatto apposta per rendere questo genere di situazione cioè non è come qualcuno sostiene vabbè ci sono disorganizzati no non sono disorganizzati perché io che non sono cittadino statunitense su Facebook per esempio mi comparivano delle inserzioni in cui c'era la pubblicità del voto elettronico degli Stati Uniti cioè incoraggiano la gente a votare elettronicamente Senti Giacomo prego scusami questa cosa qui quella dei brogli di dare la percezione alimenta ulteriormente la divisione e lo scontro perché ognuno in misura variabile degli schieramenti si sente defraudato ma è ovvio ma è ovvio ma è ovvio infatti quello che dicevo a prescindere da chi vinca da chi perda colui che perde urlerà ai brogli perché il sistema è così è così e quindi è voluto per mantenere proprio una società conflittuale quindi il divide di impera che sembra stato inventato ha un'efficacia che sembra stato inventato in questi anni qua a duemila anni invece questa tecnica qui funziona ancora perfettamente prima ho parlato per esempio della concessione diciamo allegra mettiamola così della cittadinanza un numero spropositato di migrati irregolari adesso mettiamo che queste elezioni le vinca Kamala Harris per esempio che ne pensano i texani di tutto questo Texas che è uno stato che ha avuto a che fare con l'immigrazione illegale in questi ultimi anni in maniera spaventosa è stato il principale problema che peraltro era stato al centro di una contenzioso tra lo stato texano e il governo federale proprio per questioni di confine di tutela dei confini e avevamo visto 25 governatori quasi tutti dei repubblicani assumere le difese del presidente texano contro il governo federale e la corte suprema aveva dato ragione al governo federale quando si vengono a creare queste contraddizioni questi contrasti tra poteri all'interno di uno stato federale uno stato federale che è già passato sopra una guerra civile che ancora lascia degli strascichi pesantissimi la situazione è veramente pericolosa e problematica e questo secondo me rende proprio fotografa il livello proprio di responsabilità che caratterizza la classe dirigente degli Stati Uniti perché soffiare sul fuoco in una situazione così incandescente pur di ottenere voti pur di ottenere un verdetto preconfezionato significa uno che il sistema non regge più perché tu ha voglia a continuare a presentarsi come faro come punto di riferimento del cosiddetto mondo libero quando si assiste a questi scenari così grotteschi come potenza ipertecnologica e non riesce ad utilizzare lezioni minimamente serie evidente che secondo me ci sono tutti i contenuti per un esito anche pericolosissimo perché la situazione può veramente far sfuggire di mano questo non vuol dire che domani scoprirà la guerra civile non sostengo assolutamente questo però dico che in questo in un clima del genere basta una scintilla dar fuoco alle polveri e sottovalutare strutturalmente sistematicamente il malessere la conflittualità sociale che vige all'interno di quel paese dove non mi stanco mai di ricordare ci sono 350 milioni di armi da fuoco registrate per me secondo me è un gravissimo errore nella migliore delle ipotesi sì e come fate anche notare ogni tanto anche per nell'analisi della società americana dove oltre il 40% delle famiglie andrebbe va in crisi per un debito imprevisto una spesa imprevista di 1000 dollari in pratica ecco vuol dire che sei sempre vuol dire che sei sempre proprio lì sulla linea di galleggiamento in pratica quindi Giacomo tu ritieni in pratica che i prossimi giorni e forse le prossime settimane saranno incandescenti negli Stati Uniti insomma ribadendo l'analisi che hai fatto la prima analisi che hai fatto secondo me sì perché comunque dicevo comunque vada nessuno dei due riconoscerà la legittimità delle elezioni e quindi sottrarà la legittimità alla controparte e da qui che discendono proprio tutti i problemi e già il clima che si è venuto a creare in cui se votate Trump votate il fascismo il nazismo tutti questi discorsi non portano veramente portano veramente a scenari molto pericolosi secondo me sì e lo vedremo le prossime settimane poi soprattutto direi in caso di vittoria di Trump perché i mesi scorsi hanno cercato almeno un paio di volte di farlo fuori e in altre situazioni almeno un altro paio hanno c'erano appunto i presupposti quindi e questo e questo di fronte a una possibile vittoria di Trump ma da dopo domani dovesse vincere Trump quella è una certezza cioè dal punto di vista degli avversari è una certezza te lo ritrovi a governare quindi non so ritengo che quello da quel momento in caso di vittoria di Trump potrebbe iniziare il momento più pericoloso per lui in realtà Stefano hai una considerazione finale per chiudere il capitolo elezioni e poi passiamo al Medio Oriente all'Iran la mia considerazione è sul fatto delle cifre che sono state spese per per queste elezioni 34 miliardi di dollari spese in spot pubblicitari materiale di propaganda i famosi cartelli con da appendere cioè da piantare nel giardino ad esempio vengono regalati a tutti gli elettori per dimostrare che hanno votato anche quelli costano sono stati assunti tra le altre cose dei reclutatori e cioè migliaia migliaia di persone negli stati più incerti che vanno di casa in casa a cercare di convincere le persone ad andare a votare questo principalmente i democratici per cercare di portare il più possibile le persone a votare ed è una cosa allucinante sono anche quelle persone che magari poi si sentono dire no guarda io ho qui le schede da spedire per posta se vuoi te le vendo no e via dicendo succedono anche queste cose qua l'altra volta era successo che avessero fatto dei banchetti per raccogliere e pagare le schede per il voto via posta vabbè comunque sia sono episodi che possono succedere in ogni paese in quale paese non succedono queste cose certo assolutamente assolutamente vediamo comunque vediamo di sicuro è l'incertezza del voto la spaccatura che c'è in alcuni paesi netta ad esempio è arrivato l'aggiornamento del 4 di novembre quindi stamattina su 23 sondaggi diversi la Pensilvania è sempre a pari quindi lì sono 19 voti elettorali per cui ci sarà da sudare adesso mi sbizzarrerò a fare i conti direttamente stato per stato certo questa ovviamente la seguiremo durante tutta la settimana cambiamo scenario Giacomo Medio Oriente la situazione è incandescente si attende effettivamente un attacco dell'Iran secondo te l'Iran l'ha dichiarato ha dichiarato che la risposta sarà dura e sarà dolorosa quindi o arriverà stasera perché qualcuno diceva che io onestamente mi aspetto di no però gli iraniani arrivavano delle indiscrezioni che dicevano che avrebbero potuto anche colpire prima del voto secondo me è una follia dal mio punto di vista fare una cosa del genere perché perché sarebbe una follia perché significa proprio inimicarsi gli Stati Uniti in maniera pesantissima gli Stati Uniti si trovano in una posizione oggettivamente difficile adesso se tu fai una cosa del genere condizionando direttamente l'esito delle elezioni legittimi qualsiasi tipo di ritorsione nei tuoi confronti faccio una domanda secca l'Iran dovesse attaccare diciamo se stanotte vuol dire proprio poche ore prima dell'inizio del voto favorirebbe più uno schieramento o l'altro in teoria favorirebbe indubbiamente i trampiani a per forza perché comunque gli effetti che si produrrebbero sarebbero un aumento del petrolio del prezzo del petrolio subito immediatamente perché poi bisognerà vedere dopo lì c'è anche la guerra di propaganda per cui gli Stati Uniti fanno filtrare ai giornali il fatto di aver avvertito le autorità iraniane che in caso di attacco iraniano a Israele loro non sarebbero in grado di trattenere Israele a quel punto potrebbe scatenarsi non so cosa questo è quello che dicono questo è lo scenario che dipingono e che secondo me porta anche un po' a interpretare correttamente la rappresaglia contro la rappresaglia israeliana che si è verificata pochi giorni fa 26 d'ottobre lì gli ha detto sì è una cosa moderata solo obiettivi militari eccetera come se Israele avesse deliberatamente cercato di produrre meno danni possibile a me mi è sembrata una cosa un po' strana perché Israele non è non è il modo da agire degli israeliani quello di trattenersi è la sproporzione la sproporzionalità è la cifra della loro dottrina strategica l'hanno codificata proprio loro agiscono in maniera sproporzionata questo è il loro modo da agire il fatto che abbiano colpito così per loro decisione mi è sembrata subito un po' dubbia come cosa poi sono emersi anche qui delle voci dei particolari un po' strani cioè che i sistemi di guerra elettronica russi i sistemi contraerei russi il fatto che da quanto pare questo è emerso da qualche da fonti saudite c'erano dei sistemi antiaerei sconosciuti di cui gli israeliani non avevano contezza e gli iraniani avrebbero messo in gioco sarebbero entrati in funzione perché non uno dei velivoli è entrato dentro lo spazio aereo iraniano hanno tutti colpito dal territorio iracchiano è emerso che per esempio gli sauditi hanno espresso agli stati uniti hanno comunicato il proprio disappunto per non essere stati avvertiti in anticipo di quello che stava accadendo e di non aver ricevuto informazioni circa gli esiti quali danni sono stati prodotti questo solleva tutta una serie di interrogativi cioè gli israeliani hanno diciamo agito con cautela per evitare l'escalation che però cercano palesemente da mesi oppure è successo qualcosa che li ha frenati gli israeliani sono riusciti a mettere in campo qualcosa che loro non si aspettavano di efficacia superiore al previsto questo insomma può aver scompaginato le carte perché ricordiamo che sono passati 27 giorni tra l'attacco iraniano il primo ottobre e la controrappresaglia israeliana contro l'Iran quindi hanno pianificato per tempo sicuramente avranno ricevuto pressioni dagli Stati Uniti perché anche un attacco israeliano contro l'Iran avrebbe potuto innescare delle reazioni degli effetti aumento del prezzo del petrolio quindi della benzina negli Stati Uniti non è un bel segnale insomma prima delle elezioni insomma c'è un sacco di variabili difficili da valutare come da valutarne la veridicità la realtà la concretezza però io sul fatto che gli iraniani abbiano messo in campo qualcosa che abbia diciamo colpito diciamo lasciato di stucco stupefatti in un certo senso gli israeliani lo ritengo plausibile sì Stefano toccati tanti punti non ti faccio una domanda come dico in certi casi ti lascio la parola direttamente se non una domanda siamo veramente vicinissimi è immediato comunque molto vicino l'attacco dell'Iran a Israele secondo me no secondo me no anche perché se lo aspettano ne hanno parlato già tanto e questo invece fa parte dell'attesa io credo che gli iraniani aspettino di vedere l'esito anche del voto per capire come regolarsi e quindi non credo che ci sarà l'attacco oggi poi chiaramente puntualmente sarò smentito beh allora perché battuta visto i brogli che ci sono potrebbero aspettare anche settimane allora esatto conteggi riconteggi e via discorrendo esattamente ma fa parte anche lo scorso attacco arrivato dopo molto tempo quindi la scorsa rappresaglia anzi risposta iraniana a un attacco subito la risposta a questo ennesimo attacco avverrà anche qua quando farà comodo all'Iran non di certo americani o israeliani quello che c'è da dire ad esempio sull'operazione che avevo notato da subito il fatto che fossero state colpite principalmente due regioni che sono al confine proprio con l'Iraq sono stati colpiti principalmente dei sistemi di difesa aerea come radar o posti di comando dove tra le altre cose era morto quel maggiore di cui avevo dato notizia non sono entrati nello spazio aereo i caccia israeliani e penso che fosse stato preordinato così non si può cambiare in corso d'opera la natura dei bersagli in quanto devi decollare già con le armi che devi usare ecco se carichi delle bombe non puoi poi sganciare dei missili per capire hanno usato anche dei missili a lunga gittata che sono quelli che sono arrivati vicino a Teheran e sono stati praticamente tutti abbattuti i danni non sono usciti immagini satellitari almeno io non ne ho visti vere e proprie tranne alcune due foto di qualche punto altre non ne ho viste di immagini di danni subiti e questo mi ha un po' insospettito perché normalmente sono proprio società israeliane tra l'altro quelle che in genere mettono in evidenza ad esempio danni subiti da un attacco aereo a una base russa o altro stranamente stavolta non si sono fatti vivi vedremo un po' come andrà però di sicuro di sicuro l'Iran non si scoprirà alcune carte da giocare prima del voto americano faccio presente che la comunità musulmana americana ha invitato a votare per Trump perché hanno detto sì è vero c'erano stati dei problemi anche con Trump ma non ci sono state le guerre che ci sono state adesso con i democratici l'ho trovato strana sta cosa però fa parte un po' anche delle contraddizioni interne della macchina tra virgolette elettorale bellica di Trump che imbarca sia un Vans che è un un falco contro i musulmani che una Tulsi Gabbard che invece è molto moderata e allo stesso tempo ha corteggiato molto le comunità appunto musulmane calcando la mano sul fatto che l'amministrazione Biden faccia tante parole ma poi continui a vendere le armi e non agisca e non abbia agito per la pace lui ha anche detto con me non ci sarebbe stato il 7 di ottobre forse lo intendeva cancellarlo dal calendario non lo so ma è difficile è difficile arrivare a credere a queste cose io non ripeto è una campagna elettorale con due candidati molto scadenti Giacomo sulla questione in Medio Oriente l'Iran possibile attacco a breve forse sì forse no sollevava alcuni dubbi Stefano hai una considerazione finale? Sì il punto è proprio questo secondo me non è una cosa intelligente dal punto di vista iraniano agire in questo momento perché è veramente controproducente l'Iran sta di fatto ottenendo dei grossi risultati Israele luguro molto luguro dal punto di vista militare ci sono per esempio indiscrezioni sulla stampa israeliana alcuni generali tra cui il capo di stato maggiore Alevi avrebbe chiesto a Netanyahu avrebbe esercitato pressioni su Netanyahu affinché negozi non cessate il fuoco perché situazioni non riescono da un punto di vista di psicologia di forze proprio umane di risorse umane sono troppo esposte sono troppo lugore hanno combattuto troppo a lungo non ci sono ricambi sufficienti ci sono troppe perdite già questo è un dato importante di cui tenere conto la produzione bellica e le forniture statunitensi in particolare di sistemi antiaerei non reggono i ritmi di consumo e l'abbiamo visto questo cosa significa nel conflitto russo-ucraino quindi in Israele si trova a gestire troppi fronti di cui uno è quello interno e la prova ne è per esempio il fatto che un numero elevato degli israeliani stia lasciando il paese ma non gli israeliani qualsiasi sono quelli che si occupano praticamente dei settori trainanti dell'economia israeliana scienze dure soprattutto fisici informatici sono personaggi che come sottolinea un economista israeliano sono insostituibili per l'economia del paese una volta che lasciano il paese trovano lavoro altrove Israele che ha già un'economia un po' definirla un'economia produttiva un po' diciamo una forzatura quel punto si vedrebbe proprio degradato anche come struttura economica quindi ci sono degli oggettivi risultati che l'assade della resistenza sta ottenendo dal punto di vista dell'Iran non ha alcun senso cercare l'escalation cercare l'escalation ha senso dal punto di vista israeliano perché stai perdendo quindi dovrò risciare il tavolo per poter ottenere dei risultati quindi non credo nemmeno io che ci sarà a breve ci sarà prima o poi perché ci sarà però l'Iran ha dato prova di poter anche dilazionare di molto i tempi dilatarli tantissimo e quindi credo che seguirà questa logica come dicevano seguirà questa logica come dicevano la punizione sta anche nell'attesa Stefano andiamo l'ha nominato proprio poco fa Giacomo e mi ha dato quindi l'ha perfetto passiamo allo scenario ucraino il conflitto russo ucraino dicevo all'inizio il conflitto appunto e Zelensky in questi ultimi giorni sono quasi spariti dai media forse la motivazione è anche l'andamento del conflitto secondo te ecco ci aggiorni sul conflitto ovviamente come sempre le notizie fondamentali perché poi per tutti gli approfondimenti sulle operazioni belliche ovviamente c'è il tuo canale ma guarda velocemente è un momento in cui notizie favorevoli all'Ucraina non ce ne sono di nessun tipo per cui si capisce come mai sui media non ne parlino ultimamente hanno scoperto che i russi stanno avanzando un po' ovunque sui fronti hanno scoperto che le campagne di mobilitazione sono andate malissimo è uscito sui media generalisti che ci sono stati circa centomila defezioni tra le fila dell'esercito di Zelensky e non sono poche quelle ufficiali chiaramente parlano oltretutto anche con poca con poco mistero senza farne mistero anzi di iniziare una possibile mobilitazione delle donne non intendo apertura al volontariato che c'è già ma di mobilitazione nelle forze armate questo testimonia l'incredibile livello delle perdite che stanno subendo e delle quali nessuno di coloro che si fanno promotori della vittoria ucraina sembra porsi il problema noi abbiamo una situazione fondamentalmente in cui adesso si parla addirittura della preparazione di una nuova controffensiva o di un nuovo attacco da parte ucraina con l'accumulo di striker di mezzi cingolati svedesi gli Stati Uniti sembrerebbero voler fornire duemila ANVI perché non li danno più blindati tra le altre cose e anche dei leopard tra tedeschi e danesi una brigata di carri addirittura credo che sia una voce non fondata che rappresenta però quella che è una disperazione di fondo ecco sta andando malissimo parlando di missili antiaerei nelle ultime settimane le ultime due settimane c'è stato un aumento repentino dei droni che sono arrivati a bersaglio indisturbati nei cieli ucraini questo significa che non ci sono più molti missili antiaerei da spendere meno che mai contro dei semplici droni preferiscono farli andare a bersaglio addirittura quasi nemmeno sparano con le mitragliatrici contro i droni anche perché ci vogliono dei calibri i cui proiettili anche costa produrli i gepard ad esempio sparano con dei proiettili che producono solo due ditte una norvegese e una svizzera gli articoli che sono usciti recentemente con l'allarme sulle riserve di missili antiaerei negli Stati Uniti ci dice bene che con grande difficoltà l'Ucraina riceverà ancora entro la fine dell'anno dei pacchetti di missili perché questo e beh perché se i missili più vecchi sono finiti negli Stati Uniti quelli nuovi a comprarli costano tre volte tanto rispetto a quelli che erano stati comprati allora tre volte tanto barra quattro alcuni tipi detto tutto ecco e quindi il che vuol dire che se li vuoi far arrivare devi comprarli anche perché le tue riserve non possono scendere una determinata soglia altrimenti gli Stati Uniti non sarebbero in grado di difendersi o di difendere eventuali loro alleati strategici si legga la Corea del Sud nel frattempo che vanno avanti le operazioni militari dove ripeto l'iniziativa è sempre in mano russa stiamo ancora aspettando di vedere quando appariranno i coreani del nord questi diecimila coreani 20.000 quelli che sono certo certo ne parliamo Giacomo vuoi dircelo tu dove sono questi ipotetici diecimila non si sa bene diecimila un milleggiatura a Fano sono in Russia sono in Russia i sensi di un accordo di un trattato che è stato sottoscritto da Mosca e Pyongyang da non molto e che ha tutti i crismi della regolarità per cui con ogni probabilità la la Corea del Nord ha tutto l'interesse a inviare proprio personale a vedere da vicino come funziona una guerra convenzionale contemporanea perché la Corea del Sud la Corea è stata la penisola coreana al teatro dell'ultima grande battaglia grande guerra ad altissima intensità che è stata combattuta in un conflitto spaventoso spaventoso letteralmente ci leggono purtroppo ho dimenticato ma è stato un conflitto cruciale per tutta una serie di questioni in cui hanno visto le parti l'Unione Sovietica la Cina gli Stati Uniti fare letteralmente a pezzi il territorio gli uni le forze degli altri eccetera bombardamenti convenzionali che hanno bruciato intere città veramente la Corea del Nord ad un certo punto c'erano i resoconti dei piloti statunitensi che dicevano ma qui non c'è più niente da bombardare è proprio raso al suolo tutto probabilmente dal punto di vista della Corea del Nord c'è tutto l'interesse a andare i propri ufficiali soprattutto a vedere come funziona per poi ottenere acquisire delle informazioni studiare il conflitto e farne tesoro come farebbe chiunque d'altro canto si risuonano alquanto secondo me grottesche anche le uscite di Austin e del ministro della difesa sudcoreano che ha richiesto l'immediato ritorno dei nordcoreani la smobilitazione dalla Russia stiamo scherzando la Nato può sostenere l'Ucraina in maniera totale completa su ogni fronte ma la Russia non può stringere accordi con un suo alleato e quindi non può dar seguito a dei trattati che ha sottoscritto questo proprio anche qui in questo cortocircuito logico c'è tutta l'essenza la pochezza della situazione delle classi dirigenti occidentali secondo me e secondo me la Corea del Sud peraltro sta pagando sta cominciando a capire cosa significa essere uno stato vasciallo perché perché la Corea del Sud non ha alcun interesse di mischiarsi in un conflitto con quello russo-ucraino non ce l'ha mai avuto per ovvie ragioni però cosa succede succede che gli Stati Uniti stavano esaurendo i proietti di artiglieria e siccome la Corea del Sud e la Corea del Nord sono in una situazione di belligeranza congelata da oltre 50 anni hanno accumulato riserve mostruose di proietti di artiglieria quindi ne hanno in abbondanza e hanno praticamente gli Stati Uniti sono andati a Seul e hanno detto dateci i vostri proietti di artiglieria così che noi potremo dare i nostri all'Ucraina senza intaccare le nostre riserve di fatto è come se la Corea del Sud avesse dato proietti di artiglieria all'Ucraina per non parlare del fatto che la Corea del Sud dà mezzi scorrazzati alla Polonia il piano di riarmo polacco poggia molto sulle fornitore della Corea del Sud e questo rende particolarmente felice la Russia benissimo la Corea del Sud si pone in una situazione del genere la Russia risponde per le rime sigla un accordo con la Corea del Nord che pone la Corea del Nord di accedere a tecnologie russe sblocca tutta una serie di crisi che erano immobilizzati per effetto delle sanzioni e quindi rinserisce la Corea del Nord nel circuito internazionale e vedremo che in una situazione del genere gran parte del mondo non seguirà gli occidentali come a Washington continuano ad aspettarsi la Corea del Nord verrà pian piano reintegrata con tutte le conseguenze del caso è un po' quello che diceva Putin siccome voi occidentali usate l'Ucraina per colpire la Russia la Russia a sua volta porrà i propri alleati nelle condizioni di colpire gli interessi occidentali simmetria allo Stato puro simmetria allo Stato puro molto molto interessante anche questa analisi caro Giacomo prego Stefano si va di una cosa un particolare che se questi soldati nordcoreani eventualmente dovessero presentarsi sul campo di battaglia con la divisa russa nessuno può dire niente ma proprio niente di niente perché non sarebbero neanche ufficialmente soldati nordcoreani ma volontari esattamente come lo sono statunitensi italiani polacchi tedeschi norvegesi lituani lettoni estoni francesi britannici e chi più ne ha più ne metta che combattono con l'Ucraina sì bene molto bene anche questa analisi molto interessante che completa proprio il ragionamento passiamo all'ultimo tema cinque minuti facciamo i cinque ma tanto qui sicuramente è un argomento questo dello scandalo dei file rubati che probabilmente solo all'inizio capiremo e ci sarà quindi avremo sicuramente occasione per parlarne anche le prossime settimane Giacomo che considerazioni si possono fare risulta implicato anche il Vaticano e risultano implicati anche il Vaticano Israele e gli Stati Uniti avrebbero ottenuto tutte le informazioni in ballo grazie appunto alla società di spionaggio Equalize che che considerazioni possiamo fare in questo momento beh possiamo fare una considerazione anzitutto di rito questo è un gioco vecchio come il mondo anche questi che si stupiscono di queste vicende mi fanno ridere il fatto che si usano società di spionaggio di sicurezza cyber sicurezza con personaggi che avevano lavorato al ministero dell'interno che avevano entrature con i servizi di sicurezza è ovvio che hanno accesso a un certo genere di informazioni più o meno direttamente e le usano per condizionare la politica nazionale questo è un dato di fatto che esiste dall'alba della Repubblica italiana il SIFAR chi ricorda che è il primo servizio segreto militare italiano che è stato istituito una settimana prima della Nato guarda caso e Gladio nasce per un accordo tra Cia e SIFAR tra l'altro sempre in quel contesto emergono dei cablogrammi che dimostrano che gli Stati Uniti avevano caldeggiato il nome di Giovanni De Lorenzo come direttore del neonato SIFAR e cosa fa il neonato SIFAR sotto la direzione di De Lorenzo comincia a compilare una serie di dossier 34 o 35 mila erano gli anni 50 su politici imprenditori personaggi chiave come Enrico Mattei Aventore Fanfani spiavano la loro vita private addirittura fabbricavano informazioni false e le infilavano nei dossier quindi creavano una notizia a fini ricattatori e passavano tutto questo emerge da altri cablogrammi alla CIA sotto la direzione dell'ufficio locale che era William Colby che poi è arrivato alla direzione della CIA stessa quindi si facevano negli anni 50 queste cose in Italia J. Edgar Hoover dell'FBI le faceva dagli anni 20 negli Stati Uniti e quindi adesso che ci si meravigli che Israele si avvale delle sue risorse per ottenere informazioni e tenere sotto controllo tenere per diciamo una certa parte del corpo alcuni paesi occidentali giudicati non affidabili non mi pare questa grande notizia anche quelle affidabili esatto per esempio gli Stati Uniti con Jeffrey Epstein chi ha capito cos'era Jeffrey Epstein è abbastanza chiaro Jeffrey Epstein è stato era chiaramente una risorsa dei servizi di sicurezza israeliani ci sono documentati un centinaio di incontri tra Jeffrey Epstein e l'ex primo ministro ma soprattutto generale israeliano Eud Barak e ci sono visti centinaia di volte Epstein faceva dei festini come sta facendo Pafdedi adesso peraltro no li faceva adesso glieli fanno a lui neanche più a lui politici imprenditori statunitensi di tutti i vario genere poi filmava tutto e non si sa come finivano da qualche parte tutte queste registrazioni Epstein viene arrestato e muore in carcere suicida si dice quindi chissà chi ne abbia beneficiato di queste informazioni insomma certo siamo ancora agli inizi secondo te Giacomo di questa di questa vicenda secondo me questa vicenda potrebbe essere letta politicamente più o altro perché il fatto che adesso vengano fuori queste cose a danno di Israele può significare anche un po' essere un messaggio che qualcuno intende a far arrivare Israele perché se è vero che Israele ricatta alcuni con questi metodi presumo che ci siano strumenti di ricatto anche nei confronti degli israeliani Israele sta ponendo un po' tutto il mondo occidentale le classi dirigenti occidentali in una posizione molto scomoda perché le rende corresponsabili in quello che un massacro di massa che in molte latitudini viene percepito come un genocidio quindi credo che e poi sta provocando delle sconquassi a livello medio orientale che mettono a serio repentaglio la stabilità economica di tanti paesi che già subiscono i contraccolpi devastanti del conflitto russo-ucraino sì e secondo me il punto un punto importante è che quando l'occidente si rende conto e questo vale per tutti che un determinato paese magari in questo caso Israele non ha più la giustificazione o l'appoggio dell'opinione pubblica internazionale in questi casi qui il popolo credo vince quando questi sono uno degli unici casi in cui il popolo ha veramente potere Stefano sulla vicenda la tua analisi conclusiva per chiudere proprio il nostro appuntamento io ho trovato singolare il fatto che ci sia stato un caso su questo su questo fenomeno in quanto i clienti poi alla fine delle fini chi erano tutti si rivolgevano a questa agenzia per avere le informazioni sui concorrenti e il loro interesse era vendere a tutti le informazioni quindi tutti sapevano che c'era questo tipo di profilazione e tutti ne erano a conoscenza quindi non c'è un caso e non c'è uno scandalo ecco interessante comunque sempre sapere che potenze straniere controllano profilano dossierano anche fanno il dossieraggio sui nostri amministratori in modo che gli interessi del nostro paese siano sempre messi dietro quelli di chi ricatta e di chi possiede queste informazioni sui nostri amministratori Giacomo ha chiesto hai toccato un punto fondamentale Giacomo sì volevo sottolineare un paio di aspetti interessanti secondo me uno è che l'Italia ha affidato la propria cybersicurezza a una ditta israeliana scusate ho perso il contenio le proteste di alcuni alti funzionari italiani perché chiaramente affidare la cybersicurezza a un'azienda a stranire è già qualcosa di vabbè noi vendiamo direttamente la rete fissa a un fondo che è presceduto da Petreus quindi siamo in linea l'altro aspetto è che dalle intercettazioni di alcuni personaggi coinvolti nelle indagini è emerso che questi due parlando sostenevano che praticamente appena terminate le elezioni in Italia c'era l'intenzione di mettere Salvini al ministero degli interni come era già successo nel governo cosiddetto giallo-viola e poi sarebbe arrivato il veto degli Stati Uniti perché Salvini ha giudicato troppo vicino a interessi russi e avrebbero minacciato di far uscire dei dossier che contenevano prove non so se vere o forti o diciamo fabbricate del fatto che Salvini avrebbe ricevuto quattrini dai russi naturalmente non c'è modo di sapere se queste cose fossero vere o false ma è certamente verosimile che gli Stati Uniti abbiano posto il veto su un ministero sensibile sulle nomine a un certo genere di casteri cosa che fanno dal 1945 in poi tra l'altro ecco giusto per qualche settimana ma senti poi avevano posto sollevato perplessità anche sulla Meloni poi anche tra l'altro no? sì ci sono anche la Meloni che si fa carezzare la testa da Biden più a soggettamento di così scusa aspenisti tutto eccetera però evidentemente questo genere di personaggi viene percepito un po' troppo affarista un po' troppo sensibile al vento che tira quindi non sono di una fede comprovata insomma non sono Mario Draghi hanno ragione su questo probabilmente sì probabilmente sì però è evidente che questo dimostra comunque quanto siano capaci di condizionare in un modo o nell'altro la nostra vita politica di tutti i giorni questo assolutamente e in estrema sintesi Stefano prego no prima di chiudere la trasmissione volevo cogliere l'occasione per ricordare che a Valencia ci sono circa duemila dispersi ancora e quindi il conteggio delle vittime sta assumendo le proporzioni di un disastro e nonostante ciò non non sento parlare di particolari responsabilità da parte degli amministratori che avrebbero dovuto allertare per tempo e con i dovuti modi la popolazione sì e guarda hai fatto benissimo a fare questo intervento qui probabilmente si scoprirà anche dell'altro perché qui mi sembra strano che sia tutto dovuto solo esclusivamente a un evento a un evento meteorologico ma qui sarà da riprendere in mano questo tema però tutta la solidarietà perché ci sono quasi duemila persone risultano disperse e credo che la maggior parte di queste i prossimi giorni verrà conteggiata come defunta quindi credo che il computo dei morti ad oggi sia un computo molto molto parziale quasi agli inizi e tutta ovviamente la nostra solidarietà si spera chiaramente che i dispersi in realtà siano semplicemente diversamente allocati nel senso che non si si siano persi contatti semplicemente ma siano vivi e vegeti certo dopo tot giorni diventa anche difficile continuare a sperare certo assolutamente grazie ancora Stefano per aver ricordato questa tragedia veramente gigantesca chiudiamo chiudiamo qui il nostro appuntamento del lunedì io ringrazio come sempre tantissimo Stefano Orsi grazie Stefano grazie Carlo un saluto anche a Giacomo buonasera a tutti grazie grazie Giacomo grazie a Giacomo Gabellini grazie chiudiamo in maniera un po' ovesta ma è giusto è giusto così insomma appuntamento alla prossima settimana e poi al proseguo della con le elezioni americane in questi giorni grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti